Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel primo video vero e proprio sul PC Finalmente ragazzi ho appena acquistato la nuova webcam Che è una Logitech C270 Che in pratica registra in 720p, quindi in HD E ha anche un piccolo microfono con cui io adesso sto parlando anche con voi Allora questo per lo più è un videoprova ragazzi Quindi sto cazzeggiando tipo sul PC però Tipo ragazzi questa qui è solo una prova Comunque dalle prossime volte faremo le cose vere e proprie comunque Che ne so, proviamo a vedere tipo se ha funzionato Non lo so, tipo andiamo su YouTube Su qui ragazzi è tipo un videocazzeggio per provare no? Quindi poi dalle prossime volte inizieremo a fare i gameplay Comunque Il mio canale Andate ragazzi andiamo tipo sul mio canale Vediamo che si carica, ok Come potete vedere qua c'è l'immagine Qua tutti i video eccetera eccetera Perfetto ragazzi, perfetto Niente questo era un videoprova ragazzi Per vedere se andava tutto bene Comunque come potete vedere è andato tutto alla perfezione Quindi dalla prossima volta ragazzi inizieranno i gameplay E niente spero vi sia piaciuto Spero che questo video vi sia piaciuto Commentate ragazzi, iscrivetevi al canale E da oggi partiranno le serie Bella Grazie a tutti Grazie a tutti